Abbiamo sentito che questo marzo impietoso abbia colpito parecchi dei relatori e ho invitato a partecipare anche Fabio Granato e anche lui, insomma, anche portiamo male. Guardiamo appunto al campo aperto, guardiamo al merito e abbiamo voluto fare questa iniziativa qui alla religenza, perché alla religenza? Perché insomma qui alcuni conflitti, alcuni paradigmi si possono meglio verificare, svolgiamo questa iniziativa che parla di rifuti purtroppo, come tante altre parti della Sicilia con i sacchetti accumulati nei cassonetti, ma non solo da crescento purtroppo, io giuro tanto in Sicilia questa cosa, purtroppo è un problema comune. Lo facciamo qui perché da qui vogliamo lanciare un messaggio, un messaggio positivo, che le cose possono cambiare e che ci sono dei segnali incoraggiati in questo senso.